morto alpinista di rapallo si chiamava moriz stefan valenstatter l'italo tedesco aveva 28 anni sciatore contro alberi un 27 anni di santo stefano daveto mattia badinelli si trova ora al san martino di genova perugia amara sconfitta per 2 a 0 della vieto sentella contro gli umbri si cerca il pronto riscatto sabato prossimo contro il foggia chiavari buonasera dal tg tg li apriamo con la tragica notizia che è arrivata dalle alpi appuane perché un alpinista di rapallo un italo tedesco è morto era sulla pagna della croce scivolato nella cosiddetta buca della neve un alpinista di 28 anni di origini tedesche ma residente a rapallo moriz stefan valenstatter è morto a seguito di un incidente di montagna sulle alpi appuane l'uomo era sulla pagna della croce insieme ad alcuni amici quando è scivolato lungo il vallone dell'inferno finendo nella cosiddetta buca della neve le operazioni di recupero del corpo sono partite dal rifugio rossi l'altro ieri alle 9 30 ostacolate dalla nebbia l'elicottero ha comunque riportato il corpo dell'alpinista e le squadre di volontari all'eliporto in garfagnana il corpo è stato poi trasferito all'obitorio di castelnuovo garfagnana a disposizione del magistrato wallenstatter laureando in medicina figlio di uno specialista in chirurgia maxillo facciale molto conosciuto a rapallo era vice caposquadra della stazione tigurio del soccorso alpino e speleologico la notizia di viabilità per lavori alle gallerie di moneglia queste saranno chiusi in orario notturno da stasera fino al 27 gennaio con i seguenti orari l'ultimo semaforo verde per sese levante alle 22 05 ultimo semaforo verde per moneglia alle 22 e 15 primo semaforo verde per sese levante alle 5 e 25 del mattino primo semaforo e parliamo dell'altro fatto di cronaca del weekend cade sciando e finisce contro gli alberi a caduta santo stefano daveto il ragazzo è stato soccorso con l'elicottero dei vigili al fuoco un uomo di circa 30 anni mattia badinelli è caduto mentre scendeva con gli sci su una pista della stazione sciistica di santo stefano daveto e ha urtato contro gli alberi immediati soccorsi allertati dai amici dello sciatore sul posto l'elisoccorso drago dei vigili del fuoco le condizioni del ragazzo erano critiche dopo una prima stabilizzazione è stato caricato su di una moto slitta e portato nella zona di prato della cipolla dove nel frattempo era atterrato l'elicottero una volta a bordo il personale sanitario lo ha definitivamente stabilizzato per il successivo trasporto presso l'ospedale san martino di genova dall'ospedale all'altro la vicenda della nuova palazzina dell'ospedale di lavagna ancora chiusa è pronta da due anni a dell'incredibile l'immobile era stato finanziato dalla giunta regionale precedente e vista la vicinanza al rio rezza era stato avviato anche un intervento di messa in sicurezza da parecchi mesi le opere sono terminate ma per una questione burocratica la struttura che dovrebbe ospitare set servizi psichiatrici e ambulatori è inutilizzata sono le parole di raffaella paita capogruppo del partito democratico in regione che aggiunge incredibile che l'assessore regionale sanità sogna viale preferisca tacere e non fornire alcune risposta e adesso parliamo della tolleranza zero a chiavari contro i furbetti della spazzatura telecamere multe salate per chi trasgredisce tolleranza zero da parte del comune di chiavari nei confronti di chi abbandona rifiuti ingombranti e non fuori dai cassonetti o dalle apposite aree multe da 100 a 500 euro potenziati controlli dalla pulizia municipale e ausiliari con telecamere mobili e appostamenti nelle zone dove vengono riscontrate le maggiori anomalie nei conferimenti infine controlli a tappeto verso esercizi commerciali condomini le iniziative sono state spiegate questa mattina dall'assessore massimiliano bisso con il consigliere delegato luca ghigeri e il comandante della pulizia municipale federico luigi bisso grazie al posizionamento delle telecamere avremo gli occhi puntati sulle isole ecologiche dislocate nel territorio di chiavari e sulle zone ritenute più a rischio ha spiegato bisso il sindaco marco di capua ha ricordato che l'abbandono dei rifiuti è un comportamento intollerabile e si paga con multe salate anche in questo caso si riveleranno preziose le segnalazioni provenienti dai cittadini l'obiettivo ha detto ancora e raggiungere e superare il 65 per cento di raccolta differenziata a chiavari questa campagna di lotta ai rifiuti abbandonati non vuole essere una caccia alle streghe né un mezzo per fare cassa bensì un invito alla collaborazione civile ed al tiguglio a golfo paradiso radiologia recol consigliere regionale del movimento 5 stelle fabio tosi chiede che fine ha fatto il mammografo promesso dall'assessore regionale sogna viale entro settembre scorso a distanza di ormai cinque mesi rispetto ai tempi previsti la radiologia attende ancora questo importante macchinario sottolinea tosi anche altre criticità come la mancata sostituzione dell'ecografo e chiude il pentastellato dicendo siamo di fronte a carenze pesanti e mai risolte pretendiamo maggiore rispetto per il levante e per la sanità del golfo paradiso e adesso andiamo a vedere i fatti di cronaca del fine settimana nel corso di un servizio di controllo coordinato del territorio predisposto dalla compagnia di chiavari i carabinieri della locale radiomobile hanno tratto in arresto un equadoriano di 32 anni con precedenti di pulizia per furto aggravato di una bicicletta lasciata in corso dante altre cinque persone sono state deferite in stato di libertà un cittadino senegalese è stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento con marchio contraffatto sottoposti a sequestro è stato deferito per ricettazione introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi un altro senegalese fermato per un controllo è il risultato privo di regolare permesso di soggiorno venendo pertanto denunciato per ingresso e soggiorno illogale nel territorio dello stato nel corso di posti di controllo alla circolazione stradale svolti nei pressi di discoteche e locali notturni sono stati deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebrezza due persone di età compresa tra i 30 e 54 anni mentre un 43 anni di sesto di levante è stato deferito per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti mezzi pubblici elettrici in arrivo a portofino il sindaco del borgo matteo via cava ringrazia la collega della città metropolitana di genova marco bucci e atp già con l'amministrazione d'alìa di concerto con santa margherita ligure dice via cava si parlava di istituire mezzi green adesso l'obiettivo è più vicino e concludiamo con lo sport con il calcio trasferta mara per avvento sentare la caposa perugia 2 a 0 vediamo le immagini della partita sfortunata a del curi e ascoltiamo le parole di lazzarini il vice allenatore bianco celeste che ha sostituito aglietti che era malato quindi non ne rappresenta la partita poi cosa è successo all'inizio della ripresa il gol del giovanissimo quando abbiamo un po scompaginato i piani sì è stato un primo tempo equilibrato dove forse la migliore occasione l'abbiamo avuta noi poi in secondo tempo siamo rientrati e questo gol improvviso ci ha tagliato le gambe questo non deve succedere è il rammarico più grande perché non c'è stata una reazione a una cosa che ci poteva stare perché a perugia una squadra di qualità una rosa importante può succedere di prendere un gol però la non reazione della squadra dobbiamo capire che queste cose non possiamo permetterci una squadra che si deve salvare deve reagire sempre comunque ecco ricordiamo che aglietti è influenzato quindi questo è il motivo per cui non è presente oggi in sala stampa lei aveva parlato la vigilia lazzarini di una squadra in ottima salute era ritornata dalle vacanze con una condizione perfetta però poi ha ceduto nel finale un po' una contraddizione beh è vero può essere che sia così ma non è detto che sia una questione mentale forse le gambe non giravano può darsi ma credo che da analizzare sia più il fatto di aver preso due gol improvvisi che a livello mentale ha dato un po' un'ammazzata proprio su questo dobbiamo lavorare perché gli allenamenti avevano dato indicazioni diverse di una squadra in salute di una squadra che nonostante le assenze voleva venire a perugia e a giocarsela come è stato il primo tempo però questi due lampi improvvisi ecco ci hanno tagliato veramente le gambe e lì dobbiamo capire il perché fino a testa di una squadra in senno il mondo il mondo e non è vero che era la squadra di dì gli ammocchi la facoltura la facoltatura la facoltura e il l'abbiamo e del vento il mondo con il mondo e il mondo il mondo il mondo i tini il mondo sguv Grazie a tutti. Il giusto riposo nella provvidenza, insieme ai santi e che splendono nel firmamento alle anime delle miriade di migliaia di ebrei, uomini, donne e bambini, che furono uccisi, scannati, strozzati, bruciati, sepolti e vivi, santificati il nome di Dio. Ripogeni in pace alla fine dei tempi, risorgano alla vita e diciamo amè. E' dal 2002 che ogni anno ci ritroviamo qui. E vi confesso che pensando in questi giorni alla manifestazione di oggi, mi dicevo che ancora come allora, nonostante siano passati 16 anni, e forse oggi ancora di più, sentiamo l'esigenza e la necessità di ricordare quei tradici giorni. La cronica di oggi ci porta notizie tristi. Voci che parlano ancora di intolleranza, di violenza, di difficoltà ad accogliere. Episodi che sembrano voler banalizzare e irridere fatti e persone di quei giorni. Quello di cui si parla questa mattina ha un titolo, commemorazione. Si parla di una giornata della memoria, si parla di qualcosa che purtroppo in questi giorni sta diventando anche di grande attualità. Cioè la memoria, il ricordo e il non dimenticare quello che è accaduto. C'è una deriva che non è piacevole in tutta Europa. Ne parliamo con Getto Virengo che questa mattina qui a Coreglia coordinerà questo giorno della memoria e questo appuntamento determinato da quale storia? È determinato il 21 gennaio del 44, lasciano al campo, ahimè per sempre, l'ultimo gruppo di ebrei, di internati civili, come la legge li chiamava all'epoca. La partenza da questo luogo di detenzione ha un luogo d'arrivo che è il cancello del campo di sterminio di Auschwitz, Birkenau. Partendo da Milano per arrivare al campo di sterminio di Auschwitz, Birkenau, dove arriveranno il 6 febbraio del 44. I 605 componenti di questo convoglio che parte dalla stazione di Milano Centrale hanno un'eccellenza tra i compagni di viaggio. E Liliana Segre che da due giorni è stata nominata senatrice a vita. La commemorazione di quest'anno deve assolutamente partire da questa nomina, perché vuol dire che la cultura italiana sta affermando sempre di più che il giorno della memoria non è un giorno solo del calendario civile, ma è un giorno di ricordo e di impegno sociale, culturale e soprattutto politico, per non dimenticare cosa ha fatto il nazifascismo nel nostro paese. Nel campo di Calveri abbiamo sempre messo al centro dell'attenzione la figura di questa piccola bambina, la Nella Tias. Nella Tias, durante questo viaggio, che aveva sei anni, non è più la più piccola del convoglio. A Milano incontrerà un'altra mamma che porta tra le braccia una piccola bambina che si chiama Fiorella Calò, a sei mesi di età. Ecco, credo che la composizione biografica nel tempo che stiamo conducendo di questa giornata ci permette di leggere sempre con maggiore chiarezza e nitidezza cosa realmente sia successo in quei giorni e questa immane tragedia. Ecco, scorgo alle sue spalle la lapide e due parole mi vengono proprio così, si sovrappongono alle altre. Una è vergogna e l'altra è disonore dell'uomo. Ecco, queste sono le parole probabilmente che andrebbero sottolineate. Assolutamente sì, ricordandoci che c'è una grande responsabilità. Oggi stiamo parlando del concetto di democrazia, di affermazione della democrazia nel nostro paese. Io dico con forza e lo ridirò questa mattina, il vero democratico italiano è anche antifascista. Perché dall'antifascismo, dalla resistenza, nacque quella libertà che arriva fino ai nostri giorni che cancellò la bruttura delle leggi razziali. Rabbino della comunità ebraica di Genova e Liguria, Dottor Mobigliano, lei questa mattina è qui per portare la sua testimonianza. In che senso? Sempre, ogni anno, già da diversi anni ci ritroviamo per questo momento di ricordo. Quest'anno è anche una data significativa perché sono 80 anni dalle leggi razziali del 1938. Quindi è importante ricordare perché noi veniamo in questi luoghi e si ricorda appunto a Fatti Orendi, diciamo, la caccia all'ebreo in cui ogni ebreo, chiunque fosse, qualsiasi età, veniva portato via verso la deportazione. L'inizio è stato proprio le leggi razziali. Nel momento in cui gli ebrei venivano identificati come diversi, come qualcuno che indipendentemente dall'identità personale si doveva temere, tenerlo in disparte, marginarlo, le leggi razziali sono state la premessa della deportazione. Quindi penso che quest'anno abbia un significato particolare. ci richiama la coscienza, ci richiama un senso di responsabilità sui valori umani fondamentali che devono essere condivisi. Purtroppo la cronaca di questi giorni riparla di razze. Si è tornato a parlare di razze. Intorno a questo ci sono state delle sollevazioni. Che parola è razza? È una parola che non ha alcuna corrispondenza nella realtà scientifica. Oggi gli studi più recenti hanno dimostrato che non esistono. È un concetto assolutamente inapplicabile alla condizione umana e tanto più poi in Italia non aveva neanche da un punto di vista storico. Ma appunto con l'esperienza che ci viene dalla storia certe parole non dovrebbero più essere usate perché possono avere delle conseguenze gravi. Anche al di là di quelle che possono essere, diciamo, dalla persona che pronuncia quelle parole, ma il senso in cui vengono recepite può essere molto grave. Quanto è importante coinvolgere i giovani in tutto questo? È importante per creare una coscienza. Cioè sono momenti di stimolo che possono dare luogo poi naturalmente a un approfondimento sulla storia. Però sono momenti che fanno incontrare i giovani e quindi suscitano attenzione. E sicuramente con la partecipazione degli insegnanti e anche delle famiglie possono creare una coscienza importante. Questa mattina la presenza degli alunni, di quale scuola sei? Sono di Sestri della Media. Tu sai che tipo di commemorazione è quella di questa mattina? Ne avete parlato a scuola? Sì, ne abbiamo parlato, non approfonditamente, però ne abbiamo un po' parlato. E quindi sei qui per che cosa? Cosa si celebra oggi come ricordo? Oggi si celebra il ricordo di questo campo di raccolta che in pratica dove si venivano deportati gli ebrei e poi venivano portati a Milano verso i campi di concentramento. E quindi si ricorda anche la vicenda di una famiglia e della più piccola ragazza che avevamo ebrea in questa zona. Tu hai fatto a scuola una discussione su questo argomento che qui stamattina si celebra? Abbiamo un po' parlato di tutto del giorno della memoria appunto e abbiamo un po' discusso in classe su cosa successe e abbiamo espresso le nostre opinioni e abbiamo parlato di tutti gli avvenimenti che accaddero in questo periodo. Nell'esprimere le vostre opinioni tu che cosa hai espresso in questo senso? Secondo me quello che è successo è stato molto ingiusto e sbagliato nei confronti di tutte le persone perché nonostante una persona sia ebrea o di qualunque altra religione è una persona come tutti gli altri e quindi non ha senso perseguitarli in modo molto cattivo. Posso parlare anche con te? Che scuola? Sempre sestri descalzo. Ecco, in questa vicenda che si commemora questa mattina è coinvolta anche una bambina. Che tipo di sensazione ti ha dato questo racconto? Beh, è una cosa molto triste perché una bambina così piccola pensare che sia dovuta morire soltanto perché era ebrea, veramente non... tutte le persone morte così soltanto perché erano ebrei non è giusto. Paola De Vincenzi, dirigente dell'Istituto De Ambrosis, nata. Questa mattina lei ha accompagnato i suoi ragazzi, quantomeno una delegazione. Come li ha introdotti nell'argomento che questa mattina qui viene sviscerato in maniera storica? Diciamo che li ha introdotti indirettamente attraverso il lavoro dei nostri docenti e in modo particolare attraverso il progetto istituzionale Deptof, educazione alla cittadinanza, che vede proprio nella giornata della memoria, edizione 2018, la sua prima significativa tappa. Ogni anno invitiamo i ragazzi del primo biegno a riflettere, perché la riflessione non è mai sufficientemente sviluppata, su questi temi e cercando di attualizzarli e soprattutto cercando di sensibilizzare le coscienze dei giovani sull'importanza di alcuni principi che sono eternamente validi e attraverso la conoscenza ragionata di alcune pagine dolorose della nostra storia, che appunto non vanno dimenticate proprio perché ricordare aiuta sicuramente a porre i principi per una convivenza civile e democratica e soprattutto caratterizzata dalla diversità, intesa come ricchezza. Cerchiamo di sottolineare questi aspetti, perché comunque attualmente conviviamo sempre con la diversità dell'altro. Nel momento in cui noi non la conosciamo, questo ci fa paura e può far scaturire forse elementi negativi. Dal suo osservatorio, parliamo chiaramente di ragazzi adolescenti che si avviano al concetto di adulto. Quanto sono vulnerabili in questo momento questi ragazzi da un punto di vista della formazione di un'idea anziché un'altra relativamente a come si sta evolvendo la società? La loro vulnerabilità molto probabilmente è legata anche alla mancanza di strumenti, qualora non vengano forniti precocemente dalla scuola ma anche dalla famiglia con la quale noi collaboriamo, per leggere la realtà. Viviamo in un mondo in cui le informazioni sono alla portata di tutti, bisogna saperle distinguere, discernere, bisogna saperle coordinare per formare un'opinione. Ecco, quindi lavoriamo proprio su questa educazione, al dialogo e soprattutto alla corretta interpretazione della realtà attraverso gli strumenti che la scuola è chiamata comunque a dare. Bene, non mi resta che lasciare le previsioni meteo per la giornata di domani alla programmazione di Antella TV che prevede come ogni lunedisera a punto spot per raccontarvi quello che è successo nel fine settimana calcistico dalla terza categoria alla Serie B. Ricordo invece che l'informazione locale dalla nostra emittente tornerà domani alle 12.45, alle 14.15 con il TGT Guglio Gente, mentre in serata andrà in onda il TGT Guglio Tradizionale alle 19.30 e alle 22.45. Grazie per l'attenzione, a domani. Previsioni per domani martedì 23 gennaio Cielo sereno o poco nuvoloso Venti tra deboli e moderati di direzione variabile, tendenti a divenire settentrionali in serata Mare al mattino molto mosso, dal pomeriggio in calo fino a poco mosso Umidità su valori medio-alti Le temperature previste sulla costa tra 8 e 16 gradi Nelento terra tra 2 e 13 gradi